E' incredibile la storia di cui vi parlo in questo video che vede il protagonista Bella Montoglia, donna 76 anni, la quale si vede in una barra aperta con respiro affannoso, circondata ben due persone che vengono ad aiutarla. L'Equador è il paese di questa vicenda incredibile. I parenti stavano praticamente osservando questa donna anziana che era stata dichiarata come morta, priva di vita, da ben cinque ore, ma in realtà l'hanno percepita, respirare. E' risuscitata, così ha detto il figlio, il video mostra questa cosa qui, postato su Twitter, a barra aperta, respiro affannoso, due uomini circondanti, la donna in questione. Montoglia, Bella, era stata ricoverata in ospedale, Ictus si sospettava, arresto cardiopulmonare. Mi sembra che non c'era reazione da parte della donna, quindi il medico ha confermato la morte, in realtà però non era effettivamente parlando morta, diciamo che sarebbe tornata al mondo dei morti. Una storia incredibile. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, ciò ad andare a dobbiettoria.